preparatevi perché ciò che accadrà nelle prossime puntate di endless love supererà ogni vostra immaginazione banu è pronta a scatenare un caos senza precedenti mentre emir scopre un segreto che potrebbe cambiare per sempre il suo destino ma non è tutto asu tornerà in scena con un'offerta che potrebbe sconvolgere la vita di kemal ciò che verrà rivelato vi terrà col fiato sospeso sei pronta a scoprire la verità asu si reca poi a casa della famiglia di suo marito ma feime influenzata dai sospetti di zehir nei confronti della nuora la caccia via in malo modo asu tuttavia convince tarik che chi li ha traditi è banu kemal si è nascosto con deniz e tutti lo stanno cercando la polizia è sulle sue tracce guidata da hakan che ha saputo da zeynep che deniz è in realtà la figlia del so idere nonostante ciò l'ispettore deve fare il suo lavoro e arrestare il rapitore anche emir è sulla traccia del suo acerrimo nemico e mette in campo tutte le sue risorse per ritrovare kemal e deniz e riportare la bambina a casa sua il so idere è consapevole del fatto che qualcuno li ha traditi e vuole scoprire chi è la spia kemal viene aiutato da suo fratello tarik ad attuare il suo piano il fratello infatti ha trovato una micro spia nella borsa della madre e non esita a denunciare la talpa anche se la cosa lo fa soffrire molto sebbene sia costretta a fingere il contrario con emir per non attirare sospetti nihan sente che sua figlia è perfettamente al sicuro con kemal ma ne sente enormemente la mancanza kemal e nihan temono che emir possa scovare il nascondiglio del so idere e portare deniz lontana facendola sparire per sempre e dunque pensano che il modo migliore per proteggerla sia portarla in un luogo sicuro mentre i due pensano a come nascondere deniz affidandole alle cure dei genitori di kemal per tenerla lontano da emir la piccola inizia ad avere una forte reazione cutanea con la comparsa di bollicine rosse su tutto il corpo che costringono nihan e kemal a portarla di corsa in ospedale dove scoprono che la bambina è allergica alle fragole il dottore si insospettisce perché ha dovuto visitare la bambina senza i suoi documenti e allerta la polizia segnalando così ad hakan la posizione di kemal che è costretto a darsi alla fuga mentre già gli agenti mettono sotto sequestro l'intera zona per stanarlo nihan cerca di convincere galip a parlare con il figlio per ritirare la denuncia a kemal accusato di rapire deniz l'uomo è stato arrestato insieme ai genitori ma feime e hussein vengono rilasciati quasi subito emir nel frattempo raggiunge kemal in prigione e gi fa ascoltare la registrazione in cui deniz lo chiama papà cercando di distruggerlo psicologicamente mentre fuori dal commissariato feime esplode di rabbia contro emir zera ha un momento di redenzione e a conoscenza di alcuni segreti di emir si offre di aiutare kemal come suo legale per avviare la causa di paternità e riprendersi deniz il soidere si preoccupa per nihan ma zera lo rassicura niente trapelerà fino alla fine e la sezzin dove solo confermare che la figlia è di kemal lei la persuade ifran a non partecipare al consiglio direttivo permettendo così a nihan di prendere controllo dell'azienda per opporsi al progetto di emir sperando di guadagnare tempo e minare il suo potere con l'aiuto di aihan kemal interroga kumhur che alla fine confessa di essere stato pagato per liberare il corridoio dell'ospedale e di aver portato una divisa da inserviente in un bar vicino ma non sa chi lo ha ingaggiato per farlo zeynep scopre di essere incinta e non sa che cosa fare adesso emir passa a trovarla per dirle addio per sempre anche se è chiaro che ha un piano in mente per sacrificarla e usarla come capro espiatorio kemal e nihan continuano a indagare sulla morte di ozan zehir ha rintracciato il medico forense che con ogni probabilità ha alterato la scena del crimine